Ieri sera sta in orienta come situazione, buona notte leoni, allora vabbè se ogni volta se demmo l'obiettivo di fare tanti video molesti ma a fine siamo talmente molesti che ma poi fortuna pari video che noi ne stiamo cazzo di fare un video ma poi fortuna perché dopo mi mi rigardo o mi vergogno? si beh che sei di video effettivamente tecno, esatto che non riesci ad andare fieri quello del Piemonte non vorrei che c'è data dalla storia, no no, quello è massa bello, con questo puoi dichiarare che ti vergogni però va bene, apprezziamo, c'è succede, ma ti vogliamo così ah vale che stile qua, come se il tele allo sciroppo d'accelo, vado a finire tutto e mica, se gli altri ne mangia neanche una e dove resti i cavalchi? merda, 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 siete, e merda, resti, se dovresti i cavalchi ci raccogli d'accelo, vai maniare qui e dopo a fine maniare tutto ahahah, into the princess Giancarla style ti immagini prima del Piemonte Ci ha fatto, guarda qua, guarda che bello oh oh, 3 della prima la prima a sinistria troie come hai il teccano di Giancarlo che faccio che i minuti finisci di funzionare perché? perché sei più pomo perché sei più pomo di acqua davvero no? è una spegna oh, sei un fantastico giorno il tempo è bellissimo come si chiama? la tua giacca di merda? l'altagonia 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 questo è un f***o il f***o il f***o io voglio un f***o il f***o come niente, che diverge è custodio della chitarra se mettiamo suonare poi meglio stada a mano diremo su all'inizio quella è la sicurezza perquisito col con Metal Detecto prima mia cattava trochese che avevo poteva avere i cartelli che poteva avere i cartelli che poteva avere i cartelli è vabbè, dai non è il f***o non è il f***o salut a tutti io sono Tomo Herra numero uno in Italia siamo in Italia abbiamo fatto molti chilometri per fare un f***o per fare un f***o per fare un f***o con te io sono tre felici sei un f***o in Italia è un f***o è un f***o è un f***o ogni città è un f***o 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 grazie 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 la prossima è è about us e è e la storia è dire che noi vogliamo. E cosa vogliamo fare con il nationale? Bier. Pusci. Bier, porc, piarmi. Tu ti piace i bier? E! Tu ti piace i pussi? E! Tu ti piace fare partying? E! E siamo i canzionati. E questa canzone è chiamata il scemo in rumatel. Ok, ok. Tu parles francese? Tu parles francese. Tu parles francese? Eh, allora, io voglio parlare inglese. Ok. Ma io non voglio parlare inglese. Oh, è un buon parlare inglese, certo? Oh, bello! È un buon parlare inglese, non? È un buon parlare inglese. È un buon parlare inglese. È una chanson. È una parola di Venis. È un buon parlare inglese, che è la grande vita. Che è la vita di... Vagina? La vita di Vagina. E anche la vita di Vagina. Ok, è ok. So, il nostro canale è un buon parlare. Grazie! Grazie a tutti! Grazie mille! We all get the week and see you soon. Ciao! Find us our Facebook group, Rupo Teira. See you at the bar to drink some beer together. Grazie mille!